Ieri 26 ottobre è stata approvata una legge regionale in materia proprio di prevenzione e sostegno ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, una legge regionale che va a rafforzare la legge nazionale del 2017. A questo punto ci chiediamo ma c'è davvero bisogno di un'ulteriore legge? Anche perché comunque si susseguono purtroppo anche a Nuoro diversi episodi di bullismo, l'ultimo nella scuola media a Borrozzo, insomma pochi giorni fa. Sì, diciamo che arriviamo un po' in coda perché moltissime regioni italiane nel tempo avevano proprio dedicato una legislazione specifica per il bullismo. Arrivano dopo 30 anni di fenomeni devastanti dal punto di vista psicologico per lo sviluppo dei ragazzi, però ben venga. Il fenomeno purtroppo, seppur è sommerso, esiste sempre. Quotidianamente e mensilmente abbiamo segnalazioni da parte dei genitori di case di bullismo. Con una modalità ormai ben conosciuta, si inizia sul web con tutti i canali disponibili da Telegram, Instagram, TikTok, Webbowl, l'ultimissimo, no? In cui proprio ci si scambia modalità per attaccare, per insultare, per essere efficaci con le prepotenze. Però quando accadono fatti fisici come questi ultimi in cui ci si picchia fisicamente, significa che i ragazzi non hanno più la concezione di che cosa sia vivere l'educazione in un cortile della scuola, in una scuola e così via. Quindi è vero, il fenomeno preoccupante è il bullismo, il cyberbullismo. Però io sono molto più preoccupato dell'inerzia degli adulti. L'intervista integrale la potrete vedere questa sera durante il telegiornale.